Dante Alighieri, la Calabria e i Templari, tre elementi che sembrerebbero non avere nulla in comune ma che invece possiedono un filo conduttore ben definito. Di questo si è discusso all'interno del convegno il mistero templare nel luogo delle anime, ospitato all'interno della sala delle opere pastorali della parrocchia di Santa Chiara. Come nel corso dell'ottocento si sono create tante di quelle leggende da fare diventare templare quasi autore di tutto quello che era successo in passato, questo titolo riflette un po' questa concezione che ormai dal punto di vista storico dovrebbero essere superate. Dico dovrebbero perché in effetti vedo che è continuo ancora questo modo di pensare ai templari come se fossero gli autori di tante cose, cose misteriose. Nella vita dei templari di misteriose c'è poco o niente dal punto di vista storico. Dopo l'introduzione di Michele Cusato il convegno ha visto la relazione della dottoressa Ginetta Rotondo che ha cercato di ricostruire partendo da alcuni passi della Divina Commedia il legame che sembra esistere tra Dante Elighieri e i templari. Aveva delle connessioni con i templari e questo sembrerebbe storicamente accertato anche se non ci sono documenti. Lo dimostrerebbe anche alcuni passi della Divina Commedia laddove a lui fa riferimento in maniera positiva ad alcuni personaggi che sono tipici della tradizione templare, quindi Bernardo di Chiaravalle e Jacques de Molay. Pare che abbia assistito a Parigi nel 1314 alla morte sul rogo di Jacques de Molay. Pare, però non ci sono documenti storici. La parola è poi passata al direttore dell'Accademia Templare che durante il suo intervento ha analizzato e spiegato chi fossero i templari e quale fosse la loro storia. L'accento è stato messo in particolar modo sullo studio delle fonti che devono essere lo strumento principale per lo studio di questo ordine. Io sostengo sempre che l'ordine templare che fu soppresso ufficialmente nel 1312 ma di fatto cessò di esistere nel 1314 con la morte sul rogo di Jacques de Molay che è stato l'ultimo maestro generale di Goffredo de Charnet. Da quel momento l'ordine esce dalla storia ed entra nella leggenda. Si è detto di tutto e di più. Soprattutto, ripeto, a partire dalla seconda lettera del Settecento e per tutto l'Ottocento. La maggior parte furono gli sfrutti.